Bella ragazzi, qua Ghiotto, siamo nel video sull'accessione di El Sarawi da parte della Roma allo Shanghai Shenhua in Cina. Allora, io ho visto i video dei miei colleghi, ormai amici, li ho conosciuti sabato, sabato e domenica, gladiatore giallorosso, Lorenzo figlio di Roma, ho visto anche il video di Pablo giallorosso che non c'era purtroppo sabato, non è riuscito a venire e sono sostanzialmente d'accordo su quello che hanno detto. Gladiatore e Lorenzo hanno detto comunque che a 26 anni è assurdo praticamente finire la propria carriera perché se tu vai in Cina vuol dire che la nazionale te la scordi e comunque la Champions League te la scordi che è la maggiore aspirazione, sono le maggiori aspirazioni per un giocatore, giocare nella propria nazionale e in Champions League. E poi vai a giocare in un campionato che magari tra 20 anni o magari anche meno sarà già più competitivo, sarà competitivo, magari anche più della Serie A perché con i soldi che hanno tutto è possibile. Però attualmente veramente è come porre fine alla propria carriera. Pablo giallorosso dice che lui è deluso, ok? È deluso perché veramente vedi proprio che con i soldi si può tutto. Ormai non è che non esistono più le bandiere, ma non esistono manco tra un po' più i giocatori che ci tengono a giocare appunto in un campionato competitivo, ci tengono ai trofei, ci tengono alla propria gloria, anche al successo, ma ormai veramente solo i soldi. Però ragazzi c'è da dire una cosa che purtroppo dire no a certe somme di denaro è praticamente impossibile. Quindi bisogna mettere un po' da parte questa ipocrisia e provare a metterci nei panni di al Sharawi e dire ma se tu guadagni alla Roma, io non so quanto guadagni al Sharawi alla Roma, metti che guadagni a 3 milioni. Te ne danno 15. In Cina te ne danno 15. Cinque volte ragazzi, non il doppio, cinque volte tanto. Cioè ti cambia la vita. Non è che il Sharawi è un poveraccio con 3 milioni, vive già fin troppo bene, vivrà già fin troppo bene. Però 15 milioni, cazzo, cioè ti cambiano veramente la vita. Io vi dico una mia esperienza, io qualche mese fa e lavoravo già dove sono adesso, ho ricevuto un'offerta di lavoro più vantaggiosa dal punto di vista economico, dal punto di vista del contratto, ero anche più vicino a casa, mettiamoci anche quello, e come lavoro forse era anche meglio, però io ho rifiutato. Ho rifiutato perché? Perché ci sono altri fattori da valutare oltre ai soldi, perché mi trovavo bene dove sono e perché il lavoro che andavo a fare non mi piaceva, ok? Quindi è un po' un discorso che possiamo anche fare una similitudine con quello di il Sharawi. Il Sharawi dice, là mi fanno un contatto migliore, più soldi, è tutto, però alla Roma mi piace di più, voglio dire, secondo me, ok? La vado a fare un gioco, in quel caso lì, nel mio caso era un lavoro che mi piace meno, perché il Sharawi non penso che sia contento di andare a giocare in un campionato che non è competitivo, però si vede che ha messo davanti i soldi, ok? Nel mio caso era guadagnare magari qualche centinaio di euro in più al mese, che non mi cambiavano la vita, però alla lunga, a fine anno, io andavo a guadagnare migliaia di euro in più, ok? Non mi cambiavano la vita, però a me la miglioravano, ok? Soprattutto magari in futuro. Lui ti cambiano la vita, l'ho già ripetuto, da 3 a 15 ti cambiano la vita. Sono cifre folli, sono cifre folli che si guadagnano anche in Europa ormai, perché ormai basta che sei un giocatore discreto, che hai fatto un anno buono e già guadani 5-6 milioni. Una volta, fino a 7-8 anni fa, quello che guadagnava più della Serie A era Buffon che ne guadagnava 4, De Rossi che ne guadagnava 6, una cosa così. Adesso, ormai, basta che hai fatto una stagione buona, Zagnolo ha fatto 10 partite buone, che secondo me Zagnolo è bravo, niente da dire, però hai fatto 10 partite buone e già vuoi guadagnare 3 milioni all'anno e no. Fai due stagioni buone, io dico sempre, valutare un giocatore e due stagioni ci vogliono. E al Sharawi la dimostrazione, perché al Sharawi io non avevo ancora il canale YouTube, ma con i miei amici, anche con il mio allenatore di calcio, mi ricordo che ne parlavo, che il Sharawi ha fatto 6 mesi buono, neanche un anno buono, perché all'inizio è sempre più facile, perché le difese non ti conoscono, sei una sorpresa, poi passati quei 6 mesi, cosa succede? Che le squadre quando andavano a affrontare il Milan sapevano che il pericolo numero 1 era il Sharawi, gli allenatori preparavano la gabbia su il Sharawi, i difensori ti iniziano a conoscere, perché poi il Sharawi è un giocatore molto limitato, fa sempre gli stessi movimenti, io sono d'accordo con Lorenzo Filo di Roma che dice che è un giocatore mediocre, però c'è da dire che quest'anno ha fatto meglio degli altri anni e la cifra a cui l'ha venduta la Roma è inspiegabile, io veramente la Roma non sto capendo cosa vuole fare, perché ha venduto Manolassa una cifra, non dico ridicola, c'era questa clausola, ne ho già parlato, però una cifra comunque bassa rispetto al valore del giocatore. E poi ha venduto il Sharawi a 16 più bonus, ma c'è pochissimo, comunque un giocatore di 26 anni, riduce da una stagione positiva, quindi puoi anche far fruttare questo vantaggio, perché dici cazzo, ma ha reso bene come Milinko e dice l'anno scorso, l'anno scorso lo vendevi a molto di più, perché aveva fatto benissimo. Il Sharawi io penso che un 30 milioni potevi benissimo strapparli, poi ripeto, se è andato a vendere una squadra, lo Shanghai Shenhua, che non ha problemi di soldi, ok? Quindi io veramente la Roma, questa è una cessione inspiegabile, al di là della scelta del giocatore, la scelta della Roma è inspiegabile, perché almeno vendimelo il Sharawi va bene, ma vendimelo a 30 milioni almeno, non a 16 milioni. Cioè io veramente, poi da laziali, io se la Roma fa queste cazzate, godo, non me ne frega un cazzo, però veramente è inspiegabile, se fossi un tifoso della Roma sarei veramente incazzato nero, oltre che essere poi deluso dalla cessione del Sharawi. Comunque, morale della favola, morale del video, non facciamo l'ipocriti ragazzi, purtroppo probabilmente il 90% di noi avrebbe fatto la stessa scelta, perché non è il caso di rifiutare un milione di euro in più, ma il quintuplo di... 5 volte di più rispetto a quello che guadagna. Quindi rifiutare sarebbe stato... Non dico da pazzi, perché non muore di fame, anche con quello che guadagna la Roma, però è una cifra, un'offerta irrenunciabile. Purtroppo è così. Ragazzi, io niente, vi saluto, vi ringrazio, like al video, condividetelo, iscrivetevi e seguitemi su Instagram, il link è sotto in descrizione. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!